buonasera cari amici è bello anche questa sera pregare pregare insieme oggi in modo particolare per i sacerdoti infermi questo pregare insieme a distanza che ci fa sentire parte di una grande famiglia che è la chiesa quella chiesa che monsignor castoro ha tanto amato e servito fino alla fine della sua vita e proprio la notte tra il 4 e 5 maggio di due anni fa monsignor castoro ci lasciava per me monsignor castoro è stata una figura importante è stato quel pastore che ha saputo accompagnare e custodire i miei passi mi ha permesso di gustare la bellezza dell'essere figli di dio è stata una figura che non ha lasciato solo il segno ma anche un sogno con la sua delicatezza i suoi gesti con le sue parole ha sempre toccato il mio cuore lo ha sempre accarezzato e quando qualcuno riesce ad accarezzare il tuo cuore quando qualcuno in un rapporto riesce a toccare il cuore tutte quelle parole tutti quegli sguardi tutti quei momenti restano eterni e resta eterno anche quel sogno che monsignor castoro ha lasciato vivo dentro di me che piace mi piace racchiuderlo con una frase che lui mi disse all'inizio di una mia responsabilità all'interno dell'azione cattolica mi disse così quando gli altri vedranno la tua vita trasformata da cristo anche essi saranno attratti da questo stile è una frase bellissima una frase carica di significato che continuo a essere viva dentro di me ogni giorno e proprio in questa frase io rivedo il dono più grande che monsignor castoro ha potuto farmi quello di credere in me credere in me in qualsiasi momento è proprio il dono più grande che un padre può fare al proprio figlio è quello di credere in lui credere nei suoi sogni credere nelle sue passioni alimentarle le sue passioni per essere una missione quella missione che tutti siamo siamo chiamati ad essere e monsignor castoro anche nei momenti più difficili della sua vita non ha mai smesso di donarmi le sue attenzioni di donarmi il suo amore di donarmi il suo sorriso e la cosa che mi rimane molto impressa è quella sua domanda che mi rivolgeva ogni volta che ci vedevamo oppure che ci sentivamo come stai anche in un momento difficile dove forse lui aveva bisogno di quella domanda da parte mia me la rivolgeva sempre come stai come stai pasquale anche quando la voce purtroppo gli veniva un po a mancare non riusciva a dire tutto quello che che aveva dentro di sé mi chiedeva anche scusa però io gli ho sempre detto che il suo volto il suo sorriso hanno sempre parlato tanto di me con me forse anche più delle parole è proprio in questo periodo dove la vita purtroppo gli ha messo davanti delle delle grandi difficoltà ho sperimentato il profumo della sua della sua santità che non era fatta di cose straordinarie ma di quella semplicità nel moltiplicare la bellezza e l'amore che aveva verso la chiesa verso verso dio verso la madonna verso la sua amata diocesi moltiplicare tutto quel bello che aveva dentro il suo cuore e di bello monsignor castoro ne aveva davvero tanto dentro di sé e lo faceva sempre con uno stile con i piedi ben piandati a terra ma con il cuore rivolto verso il cielo forse proprio questo il trucco di monsignor castoro che che gli ha permesso di guardare oltre quegli ostacoli che la vita purtroppo gli aveva messo davanti e questo ha permesso di essere un testimone autentico per me lo è stato un testimone autentico un pastore contagioso di gesti gesti d'amore gesti generosi che che mi ha aiutato ad amare le fragilità e a trasformarle come quel luogo dove può nascere qualcosa di grande mi ha aiutato ad amare i giorni difficili i giorni bui della vita guardandoli da un'altra prospettiva affinché non diventino solo muri o ostacoli che la vita ci riserva ma diventano nuovi orizzonti diventano nuove nuove aperture e proprio questo è stato tutto ciò che monsignor castoro ha grazie a dio ha permesso alla mia vita di gustare e poi sicuramente ha donato qualcosa di grande a ognuno di noi e lo possiamo vedere nel suo testamento spirituale ci ha insegnato a benedire la vita nonostante tutto ecco allora questa sera preghiamo insieme per i nostri sacerdoti infermi perché possano aprire sentieri nuovi alle persone e alle vite e ai giovani che incontrano nel loro cammino grazie a tutti